Jack Ma, al secolo Mai Yun, il fondatore del colosso e-commerce Alibaba e l'uomo più ricco della Cina, lascia nel giorno del suo compleanno la guida dell'azienda per dedicarsi in futuro solo ad attività filantropiche, come aveva già annunciato lo scorso venerdì. Come riferito in una lettera ai clienti, agli azionisti e dipendenti poi, ma porterà a termine l'attuale mandato come membro del Consiglio di Amministrazione fino all'Assemblea degli Azionisti nel 2020. Il testimone passerà all'amministratore delegato Daniel Zhang.